Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante saggio appena pubblicato da Intermedie Edizioni dal titolo Frammenti di Cieli nell'arte. Viaggio per immagini tra fede, mito e scienza nei fenomeni celesti del Medioevo di Luca Salvatelli che abbiamo il piacere di avere nostro ospite al quale io lascio subito la parola perché ci parli di questi frammenti d'arte nel cielo che mi sembra un argomento molto interessante. Prego a lei. Grazie, grazie dell'invito. Allora, Frammenti di Cieli nell'arte intende essere un viaggio per immagini in parole e in figura attraverso che cosa? Attraverso le rappresentazioni, le diverse rappresentazioni del cielo nel medioevo in un arco temporale piuttosto vasto perché il volume spazia dal quarto secolo fino al quattordicesimo. Quindi in realtà nei vari capitoli che si succedono all'interno del libro in in tutto in nei cinque capitoli in cui è suddiviso c'è un errore in varie macro aree per avere delle sorta di visioni omogenee oppure visioni in evoluzione appunto dal quarto al quattordicesimo e infatti noi abbiamo un capitolo che è Cieli Tardantichi poi volte stellate tra metafisica e materialità poi una un approfondimento che mi sembrava molto interessante anche per l'elettore che ho voluto intitolare istantanea una cometa eh che approfondisce appunto il significato in particolare della cometa non solo della ehm della famosa cometa della natività ma il significato nel medioevo della cometa in generale secondo appunto sia le scritture sia la descrizione scientifica del dell'astro barbato con poi eh una appunto approfondimento della ehm rappresentazione mimetica della cometa invece da giotto in avanti fino al ehm in realtà qui si sfora perché si arriva fino a con la cometa sullo sfondo di melanconia eh seconda e eh infine due capitoli che sono in realtà collegati perché sono uno ehm su astronomia astrologia e la difficile convivenza eh il difficile connubio tra eh le due discipline difficilmente slegabili all'interno del panorama dell'età di mezzo e l'ultimo capitolo che invece va a parlare appunto degli schemi astronomici e degli zodiaci figurati sia all'interno dei libri mignati da quelli di ambito greco greco bizantino che riprendono la cultura ehm figurativa spesso del eh la romanità e della tarda romanità fino ai invece ai cieli in figura su monumentali sui soffitti figurati in particolare quelli padovani nonché alcune poi invece addentellati su eh fogli mignati eh sempre di di ambito invece questa volta sia eh francese che eh italiano in particolare del eh tredicesimo e del eh quattordicesimo secolo dove si può vedere comunque una sorta di continuità nella eh l'apparato sia decorativo sia effettivamente iconografico figurativo delle eh delle delle varie costellazioni e simboli zodiacali in particolare con un approfondimento sui famosi frammenti eh di Chantilly del Musée Condé eh che sono al po pochissimi frammenti eh di origine italiana con un eh bellissime pagine mignate eh proprio eh riferiti in questo caso alle costellazioni eh di Saturno Giove eh poi c'è invece degli schemi figurati con la rappresentazione di eh due eclissi questo è in breve il filo rouge che va a ehm comprendere l'intero eh l'intero volume volume eh volume che eh appunto dato che deve essere un viaggio eh sia per verba come ho scritto che in figura è stato corredato da varie immagini che si vanno che dialogano strettamente sono state non per scelta eh non solo tipografica ma nella redazione del del libro del testo non sono state scelte di mettere in fondo ma sono state scelte di mettere all'interno delle colonne di scruttura in modo tale da mh poter interpolare effettivamente testo e immagine e il lettore abbia un'immediata conoscenza e visione di quello che intanto il testo come in un antico builder codex il testo vada a esporre questo è insunto il il panorama di frammenti di cieli nell'arte Beh sinceramente è un argomento che non mi risulta così tanto trattato quindi è una cosa particolarmente interessante allora sì in effetti in questa veste non è eh non è trattato eh perché lì mh soprattutto perché vi sono alcune volte delle eh puntualizzazioni su alcune decorazioni astronomiche eh spesse volentieri in articoli o in saggi di convegno eh però una panoramica a trecentosessanta gradi che voglia cercare appunto di andare a ricucire in qualche modo il testo figurativo ehm dei dei cieli con anche il loro significato più profondo che non è assoluto quello quindi figurativo ma eh filosofico e appunto andare a ricucire le varie rappresentazioni in un discorso univoco con le sue contraddizioni interne dovute appunto al largo e ampio spretto cronologico mh questo non avviene vero ehm solitamente si sono trattati dei mh delle tematiche monografiche eh magari sulla cometa oppure sui cieli apocalittici in questa maniera esistono delle delle monografie o sui cieli tardantiti in maniera a sé stante esistono delle o sugli ozodiaco esistono delle monografie questo sì ma un qualcosa che abbia cercato di rilegare insieme il discorso questo è molto più raro sì in effetti anche nel panorama eh soprattutto nel panorama ehm dedicato a un pubblico più ampio rispetto a quello degli studi specialistici su effettivamente una specifica tradizione iconografica o esempio la tradizione iconografica appunto di Saturno dall'evo antico dall'evo tardantico fino al tredicesimo e quattordicesimo secolo però mh sempre a quel punto eh in in testi eh di legati appunto a miscellane o atti di articoli di atti di convegno non in un volume che invece vuole dare in maniera anche piuttosto agile atto di delle varie tipologie eh figurative dell'età di mezzo su appunto sul cielo ma eh si nota un un mutare nell'arco dei secoli allora in realtà vi è una sorta di eh di continuità la la continuità c'è c'è sempre addirittura se si vanno a prendere le figurazioni zodiacali le figurazioni zodiacali altro non sono che il significato intrinseco ad esempio nel capitolo contitolato volte stellate tra eh fisica e metafisica in in quel caso lì la volta stellata non diventa soltanto eh esempio appunto del del cielo terrestre ma è anche brano ultramondano che va a legarsi alle ai nove cioè le aristotelici alle ehm nonché al maforion della vergine ed eccetera quindi in realtà nella eh tessitura di un brano celeste non può non essere e almeno per il periodo dell'età di mezzo eh deve essere portato insieme il discorso eh fisico mimetico dell'evento naturale con quello eh metafisico questo diviene in maniera eccezionale espressa appunto all'interno eh della figurazione come dicevamo poc'anzi della stella cometa della stella cometa che in realtà ha una sua evoluzione al suo interno cioè proprio di significato e in cui la discussione tra gli stessi padri della chiesa tra il suo significato tra evento nefasto evento fasto è in discussione in maniera anche accesa questo perché nell'eo antico era considerato evento nefasto e quindi per buona parte della patristica è ancora evento nefasto fino a che leone magno in qualche modo lo porta a essere invece un evento fasto perché espressione del logos divino ma sarà soltanto effettivamente con la rivoluzione giottesca che la cometa rappresentata effettivamente come astro e con una mimesis con tutta la le sue caratteristiche naturali e cosmologiche che poi avrà al suo interno una sua tradizione propria eh che si vede anche in Lorenzetti eccetera e poi fino a arrivare in Durer sarà quel ma il diciamo la la cometa rappresentata all'interno nella natività così com'è comunque è evento fasto noi lo sappiamo da leone magno e il suo però essere evento nefasto nel medioevo ancora in realtà permane qua dove permane se uno va a prendere eh la razzo di Bailleux del dove si racconta appunto della dell'epopea normanna che cosa succede nella negli antipodi della battaglia di Hastings appare la stella cometa in questa maniera è evento nefasto per Harold e quindi il mh discrimine tra evento fasto e nefasto è molto labile e e siamo nel mille e sessantasei in realtà eh era già stata considerata come ehm era già state rilette appunto le scritture e considerata come espressione del del locus divino e quindi in qualche modo considerato sia un mirabilia ma un mirabilia positivo non un mirabilia negativo ehm facendo sempre attenzione al valore neutro appunto del mirabilia eh in cui rientra eh appunto l'evento eh cosmologico della cometa che eh così come la supernova in qualche modo che comunque dei rigurgiti in qualche modo di negatività ancora c'ha in cui in alcune cronache ad esempio la come la la coda della cometa è portatrice di vapori benefici indice poi di carestie e pestilenze e eh questo in realtà mh questo questo sostrato rimarrà e eh si esprimerà ancora sotto questi termini infatti in Albrecht Durer dove la cometa è indice appunto del di melanconia quindi di uno stato melanconico come viene espresso appunto nel suo apparire in melanconia seconda e quindi espressione ancora questa volta di negatività e non di eh positività questo per sottolineare come appunto il il discorso non è un discorso assolutamente ehm è semplice è un contraddittorio all'interno della della figurazione e la figurazione deve essere sempre interpretata non non è una figurazione ehm sciolta da una appunto da una lettura non solo iconologica ma da una lettura profonda che va a legarsi spesso a un dettato filosofico a un dettato teologico e le le figurazioni celesti dal quarto ma fino al quattordicesimo lo hanno sempre questa doppia lettura è davvero un parecchio interessante quindi io credo di poter tranquillamente consigliare a tutti soprattutto visto che ci avviciniamo no al al periodo natalizio di comprare questo libro di di leggerselo e di celebrare le le festività natalizie scoprendo come veniva vissuto il il fenomeno celeste nel medioevo fra l'altro ha anche un prezzo molto accessibile e io quindi ricordo il titolo che è frammenti di cieli nell'arte viaggio per immagini tra fede mito e scienza nei fenomeni celesti del medioevo di luca salvatelli pubblicato da intermedie edizioni sono 176 pagine per 14 euro e quindi mi sembra una spesa ottimale sia per un regalo che per un approfondimento personale io ringrazio tantissimo luca salvatelli di aver accettato il nostro invito di avercene parlato e vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che www.italiamedievale.org grazie luca grazie grazie a voi grazie grazie arrivederci grazie a voi